Un mese di tempo è quanto concesso al gestore per riconsegnare la struttura del mercato coperto di piazza Garibaldi al comune di Lanciano. L'ultimatum è arrivato con un'ordinanza di rilascio immediato dell'immobile che ospite il mercato a firma del dirigente del servizio patrimonio e del sindaco Mario Pupillo. Il rilascio dell'immobile libero da persone e cose fa sapere il comune dovrà avvenire entro e non oltre le ore 10 di giovedì 10 di ottobre. L'ordinanza è rivolta alla mercato coperto SRLS in persona dell'amministratore unico Franco Orlando D'Alessandro, già amministratore unico della Suma Corporation con cui il comune di Lanciano aveva stipulato la convenzione nel 2005. La società è stata dichiarata fallita dal tribunale di Pescara nel 2014 con procedura che si è conclusa nel 2017. Il gestore D'Alessandro nel 2015 ha comunicato al comune che la gestione del mercato coperto veniva affidata ad una seconda società, la mercato coperto, ma, contesta l'amministrazione comunale lancianese, non esisterebbero agli atti e non è mai stato prodotto alcun documento di passaggio della concessione dall'una all'altra società. Il Tarrabruzzo di Pescara ha recentemente rigettato il ricorso della mercato coperto SRLS che impugnava la decadenza della concessione nei confronti della Suma Corporation. Per questa sentenza impugnata al Consiglio di Stato non è stata richiesta la sospensione degli effetti per cui la causa sarà discussa solo nel merito. In autotutele esecutiva amministrativa dunque la Giunta Comunale di Lanciano ha deliberato di procedere alla riacquisizione del possesso dell'immobile demaniale. Il mercato coperto è stato chiuso a luglio scorso per quasi 40 giorni dopo un'operazione dei NAS dei Carabinieri e della ASL di Chieti per carenze igienico-sanitarie e ha riaperto i battenti due settimane fa dopo alcuni lavori prescritti dagli enti controllori. Gli ortorani sono rientrati nella struttura dopo aver trascorso settimane sotto il sole cocente estivo nel parcheggio di via per Frisla.